All'esito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di 9 indagati gravemente indiziati della violazione degli articoli 73 e 74 del DPR 309 del 90. L'esecuzione dei provvedimenti è stata effettuata dalla squadra mobile della Questura di Torino, con il concorso del personale del compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta e del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L'attività investigativa aveva tratto avvio seguito del suicidio di un giovane avvenuto nel giugno del 2021. I conseguenti accertamenti avevano portato alla luce un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, posto in essere in una ben definita area territoriale del quartiere San Paolo di Torino. Secondo l'ipotesi d'accusa, gli elementi raccolti dagli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile appaiono idonei a configurare grave indizi di esistenza di una struttura associativa, della quale avrebbero fatto parte gli odiani arrestati, dei quali sarebbero stati delineati degli specifici ruoli ricoperti, promotori addetti alla vendita o sentinelle. In base agli elementi indiziari raccolti avrebbero provveduto all'approvvigionamento, allo stoccaggio, allo smistamento ed infine alla vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti, operando all'interno del complesso di case di edilizia popolare ubicate in questo corso Rarconigi 25, del quale avevano acquisito il totale controllo, trasformandolo in una vera e propria piazza di spaccio. Nel corso delle investigazioni, che si sono protratte per circa sei mesi, gli investigatori effettuavano l'arresto in flagranza di sette persone, responsabili a vario titolo della violazione della normativa sugli stupefacenti e sulle armi, sequestrando oltre 30 kg di hashish, 250 g di cocaina e 200 g di marijuana, nonché due pistole beretta calibro .22 ed un fucile Jagger dello stesso calibro.